oggi sono pesca di carpe e come potete vedere pescherò a feeder sono il gioia lake di caselle in attesa dell'apertura della pesca in valle d'agosto o che bello bestia, questa è grossa è più grossa questa mamma che bellezza, questa sarà quasi 10 kg, che bellezza di carpa bellissima dai per me noco eccola un bel carpone un bel carpone guardiamola che specchi questa è una carpone che bella aspetta aspetta ma indietro oh c'è incavolata questa mamma che carpone che bella specchi oh che bella specchi mamma che bella questo è veramente un carpone che carpa mamma mia bellissimo bellissimo specchi che carpone questo sarà più di 10 kg vai vai che bella questa mi ha fatto sussultare grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.